signor michele ma come si vive qui ormai invivibile come potete vedere i rifiuti a tutte le parti ma ci sono anche rifiuti speciali e non solo questo di notte la musica alto volume e purtroppo i cittadini qua non dormono più e rassegnato no non sono rassegnato come vedete sono presenti arrabbiati arrabbiatissimo sì sono arrabbiatissimo perché sono anni ancora un grido d'allarme dai residenti del palazzo della vergogna di via lazio a monte silvano il vice presidente del consiglio regionale ed esponente del movimento 5 stelle domenico pettinari ha accolto ancora una volta l'appello delle persone che dimorano nello stabile per le quali la situazione è diventata insostenibile a causa di soggetti pericolosi dice pettinari che hanno scambiato il palazzone per la loro discarica a cielo aperto e per la sede dei loro traffici spaccio probabilmente ricettazione l'amarezza è tanta veramente il mio cuore piange sinceramente io sono venuto qui perché essendo come dovere istituzionale venire qui a fianco ai cittadini perché ho ricevuto decine e decine di telefonate di cittadini veramente piangendo sono quei cittadini che abitano nelle casette qui nelle villette qui a fianco che non dormono più la notte mi dicono che qui tutte le sere fino alle 4 le 5 di mattina ci mettono musica ad altissimo volume fanno baldoria e non solo qui si spaccia droga qui gettano l'immondizia dai piani alti e vedete qui quanti cumuli e cataste di immondizia poi dopo un po prendono e bruciano tutto quindi i cittadini non possono dormire con la paura di violenze di aggressioni di bottiglie e vetro che che sono finite sopra i tetti di queste abitazioni vicine quindi è una situazione infernale io ho dichiarato che questo palazzo che io definisco palazzo la vergogna peggio di alcuni palazzi del ferro di cavallo questo edificio prosegue insiste sul comune di montesilvano ed è di proprietà del comune di pescara due istituzioni che non riescono a risolvere l'annoso problema il centrodestra e regione abruzzo conclude il rappresentante del movimento 5 stelle che invece di stanziere fondi sta a guardare cosa va fatto qua subito immediatamente uno chiedo un'unità fissa di polizia di forze di polizia h24 qui c'è bisogno di quello che chiedo da anni per il ferro di cavallo fissa perché qui si annidano di tutto delinquenti criminali personali che hanno minacciato più volte qui c'è il nostro amico michele assieme a me ha ricevuto minacce per combattere per metterci la faccia e combattere in prima persona chiedo immediatamente lo sgombero di tutti gli abusivi perché ce ne sono tanti chiedo una rigenerazione urbana di questa struttura perché non può stare qua questo è veramente un tugurio vergognosissimo ultimamente c'è stato anche un intervento a seguito delle nostre denunce di messa in sicurezza di alcune lamiere che stavano cadendo dai piani alti finestroni qui è pericolossissimo mi auguro che sindaco di pescara sindaco di montesilvano le istituzioni tutte quanti assieme anche la regione chiedo fondi invece al presidente regione chiedo fondi perché la regione come ente finanziatore può mettere i soldi per la rigenerazione di questa struttura